il dottor ivan del vecchio che oltre a essere consigliere di questa associazione dunque è ricercatore INAF dell'istituto nazionale di astrofisica presso l'osservatorio astronomico di Brera Ivan è laureato in astronomia all'università di Bologna ha un dottorato in astronomia sempre a Bologna e è stato anche ricercatore post doc all'università di Zagabria e quindi è specializzato il suo campo di ricerca è proprio gli AGN i nuclei galattici attivi quindi i luoghi dove dove si trovano i buchi neri super massicci e quindi è proprio stasera chi meglio di lui può parlare di questi oggetti cosmici davvero interessanti e ancora misteriosi sotto molti punti non rubo altro tempo e quindi grazie a tutti vi diamo poi appuntamento per il 12 marzo e prego Ivan eh lasciamo la parola a Ivan grazie mille Alessandra grazie a tutti di essere qui dell'ospitalità calorosa della vostra associazione e intanto sì comincio a condividere lo schermo così vi introduco l'argomento di questa sera allora ditemi se vedete lo schermo intero in questo momento sì io lo vedo dovrebbe perfetto ok grazie ok è un piacere davvero essere vostri ospiti questa sera e grazie quindi alla associazione Polaris al gruppo astrofili savonesi dell'invito e come ha detto già Alessandra eh questa sera vedremo eh di fare una rassegna diciamo abbastanza generale su quello che sappiamo ma soprattutto su quello che ancora non sappiamo dei buchi neri super massicci eh che sono anche il mio tema di ricerca come hai detto tu e quindi dato che so che il vostro pubblico è molto eterogeneo volendo mettere un po' tutti sulla stessa linea di partenza eh ho dedicato le prime slide a introdurre alcuni concetti di base che secondo me sono utili a comprendere poi nel dettaglio l'argomento di stasera quindi eh non me ne vogliono eh che hanno già familiarità con questi aspetti diciamo base eh però volevo cominciare introducendo innanzitutto in questo viaggio eh alla caccia dei buchi neri super massicci quali sono le unità di misura comode che anche in astronomia in generale utilizziamo per misurare la massa, il tempo e la distanza di questi eh di questi oggetti astronomici. Come massa non utilizziamo certo i chilogrammi ma utilizziamo come unità di misura la massa solare, la massa del sole che è due per dieci alla trenta chilogrammi, cioè duemila miliardi di miliardi di miliardi di chilogrammi. Come tempo utilizziamo non gli anni ma i milioni o i miliardi di anni, l'inglese mega year o giga year e come distanze se sono relativamente piccole utilizziamo l'anno luce, cioè la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un anno o i parsec, un parsec equivale a poco più di tre anni luce e ad esempio in questa immagine eh se vedete il mio cursore, questa rappresentazione artistica della nostra galassia, la Via Lattea, il sole qui in giallo occupa una posizione semiperiferica rispetto al centro e la sua distanza dal centro è approssimativamente 26 mila anni luce o 7.6 kiloparsec, cioè 7600 parsec. Queste distanze sono, sembrano enormi ma sono ridicole rispetto a quelle degli oggetti che vedremo stasera in alcuni casi e per questo abbiamo bisogno di altre unità di misura come il redshift. Ora per coloro che non hanno troppa familiarità col concetto di redshift, letteralmente spostamento verso il rosso, partiamo da una premessa. Noi viviamo in un universo che si sta espandendo anche molto rapidamente in maniera accelerata. Possiamo pensare all'universo, ecco la classica analogia del palloncino che gonfiandosi di fatto aumenta la distanza di ognuno degli oggetti sulla sua superficie. Quindi le galassie che si trovano in questo substrato in continua espansione tendono ad allontanarsi le une dalle altre in tutte le direzioni, non perché abbiano un moto proprio ma perché si trovano su questo tessuto che si gonfia nel tempo. Quindi la luce emessa dalle galassie, da tutte le stelle al loro interno, fa sempre più fatica a raggiungere noi perché dal nostro punto di vista tutte queste galassie si allontanano, quindi i loro fotoni, cioè la luce che ci perviene sotto forma di radiazione elettromagnetica, deve per così dire notare controcorrente, contro l'espansione dell'universo e quindi nel farlo perde dell'energia. E quindi c'è questo letteralmente spostamento verso il rosso, nel senso che l'energia di questi fotoni viene persa. E questo lo vediamo forse meglio come utilizzare anche il redship come unità di misura di distanza con ciò che ci dice l'effetto Doppler. Tutti abbiamo l'esperienza quotidiana purtroppo anche di un'ambulanza che si avvicina e si allontana da noi e quindi sentiamo l'esperienza del suono aumenta quando si allontana e diminuisce, così come le onde sonore anche le onde elettromagnetiche si comportano nello stesso modo. Quindi se come vedete qui in alto abbiamo una galassia che emette luce sotto forma di onda elettromagnetica, questa luce avrà una sua lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda è semplicemente la distanza tra due picchi di quest'onda. Quindi se la lunghezza d'onda aumenta, come nel caso qui sotto, vuol dire che l'onda si sta stirando e questo capita quando perde energia. Quindi quando una galassia si allontana da noi a causa dell'espansione, il fotone fa più fatica ad arrivare a noi, quindi nel tragitto perde energia e la sua lunghezza d'onda, l'onda si dilata e la lunghezza d'onda aumenta, da cui redshift, cioè spostamento verso il rosso. Più la galassia è lontana, più fatica farà il fotone nel tragitto e quindi più energia perderà, maggiore sarà il redshift. Questo è il motivo semplice per cui il redshift ci serve a misurare la distanza di un oggetto. Ecco, questo era il primo concetto. Il secondo concetto che volevo introdurre è cos'è una galassia. La Via Lattean è un esempio classico, però in generale le galassie sono strutture composte da stelle, gas e polvere interstellare, tutte legate assieme tramite la gravità reciproca. Stelle, gas e polvere comunemente sono definite come materia barionica, cioè materia che può emettere luce. Però la massa di una galassia stranamente non è dominata dalla materia barionica, ma da quella non barionica, che conosciamo forse meglio come materia oscura. L'avrete sentita a nominare un po' tutti. Vi dico subito che la materia oscura è uno degli enigmi della cosmologia moderna più gettonati. Non sappiamo ancora cosa sia esattamente, ma sappiamo che domina di gran lunga rispetto alla materia barionica. Anche una galassia come la Via Lattea è dominata per il 90% e più di materia oscura rispetto invece alla massa di tutte le stelle, gas e polvere al suo interno. Qual è quindi il ruolo della materia oscura? Non sappiamo di cosa sia fatta, ma sappiamo che ha un duplice ruolo fondamentale. Dominando la massa di una galassia è di fatto l'artefice principale che permette alla galassia di stare assieme, di trattenere quello che è all'interno senza lasciare che scappi fuori, ma anche la materia oscura funge da calamita gravitazionale per attrarre dall'esterno nuovo materiale, ad esempio un nuovo gas intergalattico, verso la galassia, andando così ad alimentare la formazione di nuove stelle, perché il gas è proprio il combustibile da cui si originano le stelle. In questa animazione, che spero riusciate ad apprezzare, è una simulazione al computer che ci permette di capire forse come può essersi formata una galassia. Qui non vedete la luna di materia oscura, ma ne vedete l'effetto, cioè l'effetto di imbuto gravitazionale che permette di canalizzare attraverso filamenti grandi quantità di gas dall'esterno che convergono verso il centro, formando grandi quantità di nuove stelle e quindi formando prima le protogalassie e poi le galassie come oggi le conosciamo. Quindi senza materia oscura molto probabilmente non avremmo avuto la stessa efficacia nell'accumulare gas e formare stelle e quindi forse anche formare la vita all'interno delle stelle, delle galassie e dei vari sistemi planetari. Quindi la materia oscura è un ruolo davvero importantissimo. Ora introdotti questi concetti fondamentali ci avviciniamo all'argomento di questa sera. Cos'è un buco nero? Ve lo devo perché chiaramente l'argomento di stasera sono i buchi neri supermassici, ma dobbiamo prima definire in generale cos'è un buco nero. Per parentesi questo che vedete sopra è un peluche che esiste realmente, se siete interessati sono tenerissimi, li potete anche acquistare online e questo è un po' quello che forse è l'idea comune di un buco nero. Diciamo che lo cerchiamo di definire in maniera legata alla quotidianità. Vediamo in questa animazione, immaginiamo di lanciare una palla. L'esperienza comune ci dice che la palla prima o poi cade per terra perché è attratta dal campo gravitazionale terrestre. Se continuiamo a lanciarla sempre più velocemente cadrà a terra sempre più lontano. Ora, se continuiamo a imprimere alla palla una velocità sempre crescente, ad un certo punto ecco che la velocità sarà sufficiente a far sì che la palla non cada più per terra, ma che superata questa velocità di soglia abbandoni definitivamente il campo gravitazionale terrestre. Questa velocità minima che dobbiamo imprimere a un corpo perché abbandoni il campo gravitazionale si chiama velocità di fuga ed è rappresentata da questa formula che prometto è l'unica della presentazione giusto per darvi un'idea dei fattori da cui dipende. È la radice quadrata di due volte g che è semplicemente una costante, una costante che si chiama costante di gravitazione universale e dipende poi dalla massa dell'oggetto che vogliamo abbandonare diviso il raggio, quindi se è sferico la dimensione dell'oggetto che vogliamo abbandonare. Quindi nel caso del campo gravitazionale terrestre, inserendo i valori di massa e raggio della terra, la velocità minima che dobbiamo imprimere a un corpo perché abbandoni il campo gravitazionale terrestre è 11,2 km al secondo circa, che sembra una velocità molto elevata, in effetti lo è, ma è ridicola rispetto a quella di altri corpi celesti. Per esempio il Sole, che è più grande ma anche più massiccio, molto più massiccio della terra, ha una velocità di fuga di oltre 600 km al secondo. Lo vedete da questa formula, ovviamente se aumenta la massa dell'oggetto aumenta la velocità di fuga, cioè è più difficile abbandonare quel campo gravitazionale, come è intuitivo, no? Però dipende anche inversamente dalla dimensione dell'oggetto. Cioè se la stessa massa è concentrata in un raggio più piccolo, la velocità di fuga aumenterà. Quindi essenzialmente la velocità di fuga non dipende solo dalla massa, ma da quanto è compatto l'oggetto, cioè in quale spazio è contenuta quella massa. Quindi nel caso del Sole, se io immaginassi di comprimere la massa del Sole in uno spazio sempre più piccolo, la velocità di fuga aumenterebbe vertiginosamente fino ad arrivare da 700.000 km di raggio a 3 km di raggio appena. La velocità di fuga aumenterebbe da 617 km al secondo a 300.000 km al secondo, che come sapete bene è la velocità della luce nel vuoto, è anche la massima velocità concepita in natura. Quindi a questo punto la velocità per lasciare questo campo gravitazionale dovrebbe superare quella della luce, che non è possibile, e quindi questo definisce matematicamente un buco nero. Cioè un oggetto talmente compatto che ha un campo gravitazionale molto intenso, così che neanche la luce riesca a sfuggirvi. E per questo banale motivo il buco nero appunto è nero. Cioè qualsiasi cosa oltrepassi questa circonferenza che delimita il possiedetto orizzonte degli eventi, imbocca una via di non ritorno, non può più uscire. E quindi questi buchi neri sono classificati in questa maniera. A questo punto, definito un buco nero, vediamo le tipologie di buchi neri che conosciamo nell'universo. Ne conosciamo essenzialmente di due tipi. Da una parte abbiamo i buchi neri stellari. Si chiamano così perché sono essenzialmente i relitti lasciati dal collasso di stelle massicce, più massicce di 25 masse solari. Queste stelle enormi nella loro breve vita esplodono come supernove a un certo punto e in condizioni estreme lasciano un relitto che può essere un buco nero appunto stellare, che ha una massa compresa tra 1 e 100 masse solari. Questi oggetti si trovano spesso anche nella Via Lattea in sistemi binari e qui si vede che il buco nero aggancia gravitazionalmente una malcapitata stella cominciando a risucchiare materia dalla sua superficie e questi processi si chiamano di accrescimento. I buchi neri possono anche mettere radiazione in banda X. Questi sistemi infatti si chiamano anche binare X o più comunemente stelle vampiro. I buchi neri che vedremo stasera invece sono buchi neri supermassicci, cioè versioni riscalate di quelli stellari che pensiamo vivano al centro di ogni galassia e le loro masse pensate raggiungono milioni o anche diversi miliardi di masse solari. Quindi sono degli oggetti mastodontici, dei mostri cosmici che però conosciamo ancora relativamente poco. Chiaramente essendo neri, questi buchi neri supermassicci non possono essere osservati direttamente, diciamo così, ma possiamo individuarli grazie alle impronte lasciate dal loro campo gravitazionale indirettamente. Abbiamo detto che pensiamo che ogni galassia ospiti al suo centro un buco nero supermassiccio, la nostra, la Via Lattea, non fa eccezione. Infatti anche la nostra galassia ospita al centro un buco nero supermassiccio. Come è stato individuato? Monitorando le orbite delle stelle che vedete qua ricostruite in oltre vent'anni di campagna osservativa che apparentemente sembrava un orbitare attorno a nulla, attorno a qualcosa che non emetteva luce. Ma deducendo dalla traiettoria delle orbite e per quello si è dovuto attendere così tanto per completare le varie orbite oltre vent'anni, si è dedotto che la massa ai fuochi di queste orbite doveva essere di 4 milioni di masse solari, che in un spazio così piccolo non poteva che implicare la presenza di un buco nero supermassiccio. E questa è l'evidenza più diretta che abbiamo dell'esistenza di un buco nero supermassiccio nella Via Lattea. Infatti questo avvalso il premio Nobel lo scorso anno a Reinhard Genzel, Andrea Goetz per le osservazioni e Penrose per la teoria. Quindi anche la Via Lattea contiene un buco nero supermassiccio. Ora domanda legittima, come hanno fatto a formarsi questi buchi neri supermassicci? Sono già nati così grandi o si sono formati da buchi neri più piccoli? Ci sono tante teorie in corso, pensiamo che i buchi neri supermassicci si siano formati chiaramente da buchi neri più piccoli e come vediamo in questo grafico che mostra il numero dei buchi neri in un certo volume in funzione della loro massa, esistono i buchi neri stellari che sono il picco a sinistra, che sono molto più numerosi, dei più rari invece buchi neri supermassicci a centinaia di milioni di masse solari. In mezzo però c'è un grosso gap dove uno si aspetterebbe di vedere buchi neri di massa intermedia, diciamo qualche decina di milaia di masse solari, a discapito della continuità che la natura ci insegna ad aspettarci non vediamo più che qualche candidato possibile di buco nero di massa intermedia. Dove sono finiti quindi? Una delle teorie possibili è che siano esistiti ma che siano migrati nel tempo per diventare proprio i buchi neri supermassicci che conosciamo oggi. Quindi pensiamo che i buchi neri supermassicci si siano formati da buchi neri seme di masse intermedie che sono poi cresciuti in qualche modo in massa. E questa è una delle teorie più accreditate finora. con molta fantasia denominiamo dei buchi neri seme leggeri, intermedie o pesanti a seconda anche della loro massa. In qualche modo questi buchi neri hanno aumentato la propria massa per diventare supermassicci. Fra poco vedremo come. Però a prescindere dal meccanismo che li ha portati a crescere. Sappiamo per certo che questo meccanismo in alcuni casi deve essere avvenuto molto 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 in fretta. Come lo sappiamo? Perché ad oggi possiamo osservare anche dei buchi neri supermassicci estremamente distanti da noi con un reshift maggiore di 5.5. Quindi reshift maggiore significa distanze maggiori. E sapete che l'universo è un'enorme macchina del tempo quindi più sono distanti gli oggetti che osserviamo più tempo ci ha messo la luce per arrivare a noi e quindi più nel passato stiamo in realtà osservando questi oggetti. Reshift maggiore di 5.5 vuol dire che l'universo che oggi ha 13,8 miliardi di anni aveva appena un miliardo di anni. Cioè un tredicesimo dell'età attuale. Quindi era un universo giovane, un universo bambino e in quest'epoca così giovane conosciamo oltre 300 buchi neri supermassicci di quelli che riusciamo a vedere. Di questi 180 sono a reshift maggiore di 6, 30 a reshift maggiore di 6.5, ne conosciamo solo 5 a reshift maggiore di 7 e solo qualche settimana fa è stato scoperto il nuovo detentore del record di buco nero supermassiccio più distante finora osservato a reshift 7.642 che equivale ad appena, tra virgolette, 670 milioni di anni dopo il Big Bang. Cioè significa che se l'universo oggi, che ha 13,8 miliardi di anni, fosse un uomo adulto di 60 anni, questo oggetto con questa fotografia ci sta mostrando come quest'uomo doveva essere quando non aveva neanche tre anni. Quindi a me fa sempre molta impressione guardare queste immagini perché ci danno una fotografia diretta del passato di quando l'universo era un universo bambino. Nonostante questo, questo buco nero ha una massa di addirittura un miliardo e 600 milioni di masse solari. È enorme e quindi uno degli enigmi finora ancora senza grosse risposte è come hanno fatto questi buchi neri a raggiungere queste masse in così poco tempo. Questo è un campo di studio estremamente aperto, come vedete dai articoli qui in letteratura, è uno dei dibattiti più caldi dell'astrofisica moderna. Come hanno fatto quindi a diventare così massicci in poco tempo? Abbiamo essenzialmente due ipotesi. La prima è che c'è la fusione tra buchi neri più piccoli che via via si fondono in buchi neri sempre più grandi, come vediamo qui, partendo da buchi neri seme leggeri, intermedi o pesanti, questi si fondono gli uni con gli altri in buchi neri sempre più grandi, come i rami di un albero che convergono dall'alto al basso verso strutture sempre più massicce fino ad arrivare al tronco, che è l'equivalente del buco nero supermassiccio oggi. Questa era fino a solo una teoria fino a qualche anno fa, ma almeno per i buchi neri stellari è stata confermata empiricamente dalla rivelazione delle onde gravitazionali. Al 2015 risale il primo evento di fusione, di coalescenza di due buchi neri stellari, in quel caso, che però conferma l'idea. Non sappiamo se questo canale sia anche preponderante per la fusione di buchi neri già molto massicci, ma ce lo dirà la missione di ISA che verrà lanciata nel prossimo decennio e quindi speriamo di conoscere molto meglio fra un po' di anni l'incidenza di questo canale di formazione di buchi neri supermassicci. Invece l'altro canale che conosciamo oggi molto meglio, con cui i buchi neri aumentano la loro massa, è il cosiddetto accrescimento di gas. Cosa significa? Se abbiamo un buco nero, seme già abbastanza massiccio, al centro di una galassia, questo buco nero è un oggetto molto pigro, passa molto tempo in forma dormiente, tra virgolette, cioè invisibile, senza emettere luce, senza poter essere individuato, a meno che non sia molto vicino come quello della Via Lattea, però se occasionalmente una malcapitata nube di gas li passa troppo vicino, il buco nero la può agganciare gravitazionalmente e questo gas si dispone, come vediamo in questa animazione, in un cosiddetto disco di accrescimento, che è semplicemente un disco che contiene il gas attorno al buco nero che piano piano spiraleggia verso di esso, poi una volta che supera l'orizzonte degli eventi finisce al suo interno aumentando la sua massa. Però in questo spiraleggiare continuo il gas viene progressivamente compresso, sempre di più, riscaldato a temperature di centinaia di migliaia di gradi e quando il gas viene riscaldato emette anche molta luce. In questo caso questi buco neri supermassicci particolari, mentre mangiano, prendono il nome di nuclei galattici attivi o dall'inglese AGN, Arctic Galactic Nuclei. Quindi le AGN sono sotto categorie di buchi neri supermassicci che abbiamo la fortuna di cogliere mentre mangiano e quindi di poterli osservare direttamente perché emettono luce. Però attenzione, non è luce dal buco nero, ma è la luce del gas nel disco di accrescimento, che dipende ovviamente dalla massa del buco nero, cioè quanto massiccio è il buco nero, quindi quanto è forte il campo gravitazionale che sta comprimendo e riscaldando quel gas. E quindi in questi fenomeni di AGN l'energia sprigionata può essere molto molto elevata e lo vedremo più avanti nella presentazione. Però attenzione, le AGN sono soltanto una piccola percentuale di tutti i buchi neri supermassicci, sono importanti perché ci permettono di capire molte più proprietà fisiche di quelle che potremmo cogliere solo dai buchi neri dormienti, che sono molto più difficili da osservare, però soltanto l'1% della loro vita viene trascorsa in questa fase. Quindi nel caso specifico di un AGN come riusciamo a osservarlo? Beh dicevo che il disco di accrescimento attorno al buco nero emette la gran parte della luce di questi oggetti. Possiamo osservarlo tramite vari telescopi a varie lunghezze d'onda, quindi a varie energie, dicevo all'inizio. Ad esempio nei raggi X, che sono le frequenze di energie più elevate, queste campionano le regioni più interne del disco di accrescimento. Le vediamo ad esempio col satellite Chandra. Il disco di accrescimento emette in banda ottica oltre a violetta, lo vediamo ad esempio col telescopio spaziale Hubble. Come potete immaginare, allontanandoci all'esterno, il gas diventa sempre più freddo e quindi emette a energie inferiori, cioè lunghezze d'onda maggiori. Abbiamo quindi una specie di ciambellone di gas e polvere interstellare, più freddo rispetto a quello del disco, che emette in banda infrarossa e lo vediamo ad esempio con il satellite Spitzer. E poi, questo è molto importante, una percentuale di questi AGN presenta anche dei getti collimati, molto molto potenti, molto molto veloci, si propagano a velocità prossima a quelle della luce, quindi sono getti relativistici, spesso visibili in banda radio, come col telescopio Very Large Ray, e questi getti hanno il ruolo di letteralmente spostare, emettere radiazione luminosa, ma anche mettere materia nel getto che sposta tutto quello che intercetta nel suo percorso. Vedremo dopo quali sono, qual è l'impatto di questi getti sulla sulla galassia stessa, quando un AGN è attivo. Però prima cerchiamo di mettere sulla stessa scala un AGN, quindi un buco nero supermassiccio attivo, con la galassia. Quando noi parliamo di un buco nero supermassiccio attivo, non possiamo non pensare alla foto di due anni fa del team del Event Horizon Telescope, che ha immortalato questa, tra virgolette, fotografia di M87, un buco nero mastodontico di sei miliardi e mezzo di masse solari, che ha una dimensione molto grande rispetto a quella al sistema solare, più o meno dieci volte sistema solare, però un unico buco nero fa abbastanza paura, ma se zoomiamo all'esterno di centomila volte siamo appena a una dimensione di dieci parsec, cioè il ciambellone di polvere di cui vi parlavo prima attorno al buco nero, ma siamo ancora bene all'interno della galassia. Se zoomiamo all'esterno ancora di mille volte, ecco che ritroviamo l'intera dimensione della galassia. Quindi a livello di dimensioni, considerate il gap, un buco nero supermassiccio e la galassia è come confrontare una moneta di un euro con la dimensione del pianeta Terra. Sono molto diversi e quindi è difficile immaginare come un buco nero possa avere anche un minimo impatto su una galassia, essendo infinitamente più piccolo in dimensioni. Eppure sono oggetti strabilianti perché occasionalmente in fasi di AGN particolarmente intense possono arrivare a sprigionare energie anche cento volte superiori di quelle di tutte le stelle della galassia in cui risiedono e quindi possono potenzialmente avere un forte impatto sulla galassia stessa. A questo punto è finita la prima parte della serata. La seconda riguarda l'impatto appunto della gene sulla galassia, però se ci sono già domande in chat sulla prima parte, come preferite, io posso anche cominciare a rispondere a delle domande e poi passare alla seconda. Ditemi pure voi come preferite. Se ci sono domande. È un'ottima domanda. Allora, come dirò alla fine, adesso torno sulla slide. Un attimo di pazienza. Allora, pensiamo che i getti si formino a causa di fortissimi campi magnetici che si trovano nelle zone centrali del disco di accrescimento. Questi campi magnetici essenzialmente generano delle torri, cosiddette torri magnetiche, che trascinano parte del materiale del disco stesso perpendicolarmente al disco e essenzialmente si spostano nella direzione di minima resistenza. Ora, in questo sketch idealizzato, il disco è piatto, però spesso ci sono anche dei rigonfiamenti per cui il getto parte collimato nel senso che si propaga più facilmente nella regione di minima resistenza, che di solito è perpendicolare al disco, ma non sempre. Se ci sono altre domande relative a questa parte. C'è una domanda che ha fatto Stefano. Perché si tralascia sempre la materia oscura come collante per l'assemblaggio di un buco nero supermassivo? Soltanto a fine 2020 uno studio l'ha preso in considerazione, ma sembra che nessuno sia da questa idea. Cita anche l'articolo, addirittura, un articolo del 2020 della Royal Astronomical Society. Allora, sicuramente non può essere escluso. Diciamo che per quanto mi riguarda la materia oscura potrebbe anche contribuire alla crescita di un buco nero, però pensiamo che non possa essere il canale dominante perché la materia oscura interagisce pochissimo. Se interagisse scontrerebbe con altre particelle e genererebbe luce, cosa che non fa. Quindi deve essere fatta da particelle estremamente elusive e quindi è difficile che possano perdere talmente momento angolare o rotazioni da finire proprio nella regione in cui risiede il buco nero centrale. Poi c'è da dire che la materia oscura è dominante nelle parti esterne della galassia. Cioè la galassia si forma facendosi spazio al centro dell'alone di materia oscura. Al centro quindi andrà a dominare la materia barionica e quella oscura andrà a dominare più verso l'esterno. Per cui il salto della materia oscura dall'esterno della galassia fino al suo perfetto centro, dove si trova il buco nero, è più difficile da spiegare che non invece originato da materia barionica. Per cui non può essere escluso ma ci sono argomenti che rendono difficile pensare che sia il canale dominante, diciamo così. Probabilmente adesso ci sono degli studi che spero faranno luce, per virgolette, faranno luce proprio sul ruolo della materia oscura e magari fra qualche anno ne sapremo un po' di più. No, i getti diciamo trasportano materia dalle regioni più interne del disco prima che il gas entri nel buco nero perché una volta che entra non può più uscire ovviamente. Quindi quello dà dei vincoli su quale debba essere un po' la geometria di questa torre magnetica che origina il getto, però insomma abbiamo ancora pochi vincoli. I modelli più sviluppati per spiegare questi fenomeni si basano sulle stelle binarie in cui c'è un buco nero perché come ad esempio conosciamo binari X nella Via Lattea perché sono oggetti molto più facili da studiare ma pensiamo che la fisica dell'accrescimento e dell'espulsione di energia e anche dei getti che sono presenti anche nei buchi neri stellari sia più o meno la stessa. Quindi quel poco che sappiamo sui modelli, o almeno quel poco che io so sui modelli viene proprio da buchi neri stellari. Bene, ciao. Ibano, Ibano. Allora, no, direi che al massimo, allora prima di tutto il buco nero al centro della Via Lattea è molto piccolo, quindi ha diciamo una gittata relativamente bassa ed è anche assolutamente inattivo. Mangia pochissimo, è veramente molto economico. Però in generale questi getti sono più che altro gas e la sezione d'urto c'è la probabilità che questo oggetto vada a raggiungere un pianeta come la Terra percorrendo quindi 26.000 anni luce è infinitesimale, assolutamente, senza considerare il fatto che il getto parte collimato ma come mostrerò dopo al contatto col gas che trova nella galassia, perché la gene si trova nella galassia, tende poi a scontrarsi e a espandersi, quindi non è più collimato in fase a grandi distanze, è solo collimato all'inizio. Poi vi farò vedere. Oddio, quello non sono assolutamente... Certo, certo, sì. Allora, so che ha a che fare con la cosiddetta evaporazione dei buchi neri, cioè il fatto che, al contrario di quello che ho detto, parte della massa contenuta in questi oggetti possa fuoriuscire, ma in tempi di gran lunga superiore alla vita dell'universo, quindi è un fenomeno difficilmente misurabile adesso, però predetto proprio da Stephen Hawking. Non so molto più di così, se non che così facendo i buchi neri possono progressivamente sgonfiarsi e quindi anche esaurirsi e forse questo potrebbe essere il motivo per cui tanti buchi neri non si vedono anche se magari gli effetti sono ancora presenti, ma questa radiazione, che io sappio, non è stata ancora rivelata e non so se abbiamo anche la strumentazione adatta a farlo. Però chiedo scusa se non so andare più a fondo di così, non è proprio il campo teorico di cui mi occupo, però è sicuramente un punto interessante. Perfetto, grazie. Allora, quindi come dicevo prima, cerchiamo di avere, di fare una piccola carellata su quello che può essere l'impatto potenziale di una GN su una galassia. Dicevo che nella fase di da GN, quando il buco nero supermassiccio accresce materie, quindi di conseguenza emette luce ed energia, questi venti o anche getti reattivistici, spesso visibili in banda radio, ma non solo, possono spazzare via tutto il gas che incontrano nel loro tragitto, cominciando con limati, ma poi espandendosi, come vedete in questa bella foto di questo GN locale, e possono espandersi molto al di là della dimensione stessa della galassia, anche dieci volte o decine di volte più in là della dimensione della galassia. E nel fare ciò quindi cosa fanno? Creano delle turbolenze del gas che incontrano sul loro percorso perché lo riscaldano e quindi, dicevo all'inizio, una galassia ha bisogno di gas per fare nuove stelle e questo gas deve essere gas freddo perché solo la materia fredda riesce ad aggregarsi a molti termici più ridotti e quindi riesce ad aggregarsi meglio così da fare da sfido nido per le stelle. Se la materia invece è riscaldata non riesce ad aggregarsi e quindi l'effetto di questi getti potrebbe essere proprio disturbare potenziale futura formazione di nuove stelle nella galassia. Questo prende il nome di feedback, tutto ciò che viene emesso dalla GN si chiama feedback, quindi il feedback della GN, tanti studi a riguardo, potrebbe proprio avere il ruolo di inibire la formazione di nuove stelle nella galassia proprio riscaldando o spazzando via il gas che incontra. Però è ancora un argomento di forte dibattito nella comunità scientifica. Qui in basso a destra vedete un'immagine di Centaurus A, un enorme galassia locale, in banda ottica sinistra e con sovrapposta l'immagine radio a destra in cui vedete molto chiaramente questi enormi getti che poi si espandono man mano che arrivano a distanze elevate e che non vedreste in banda ottica. Questo enfatizza un aspetto molto importante che è osservare di la GN a più lunghezze d'onda, può darci davvero informazioni chiave complementari, per esempio la presenza di una GN, non potremmo dedurla da un'immagine puramente ottica in questo caso. L'altro effetto importante del buco nero sulla galassia è un po' più suddolo da vedere ma è stampato in questa stretta correlazione scoperta oltre 20 anni fa, che rappresenta una delle scoperte più inaspettate anche dell'astrofisica delle galassie, una stretta correlazione tra la massa del buco nero supermassiccio e la massa in stelle delle galassie. Qui si parla a Reship Zero di galassie locali, vicine, ogni cerchio colorato, ogni punto colorato è una galassia e sorprendentemente le masse dei loro buchi neri e la massa in stelle della galassia correllano in maniera abbastanza netta. L'incertezza della relazione è soltanto un fattore 2. Questo perché è inaspettato? Per vari motivi, ora ci arrivo, questa correlazione essenzialmente ci sta dicendo che i galassie più grandi contengono buchi neri supermassici più grandi in una proporzione pressoché costante di circa 1 a 500, quindi il buco nero è 500 volte più piccolo in massa rispetto alla somma di tutte le stelle della galassia. Può sembrare intuitivo, i galassie più grandi, i buchi neri più grandi, ok, però è molto, è difficile pensare che sia una coincidenza per vari motivi. Prima di tutto perché i buchi neri sono decine di milioni di volte più piccoli della galassia, abbiamo visto. Quindi è difficile che questi due fenomeni così diversi spazialmente possano comunicare e crescere, aumentare in massa in maniera sincronizzata, come questa correlazione invece suggerisce. E l'altro motivo per cui inaspettato è che i buchi neri, come dicevo, oggi sono per il 99% dormienti. Anche i buchi neri che sono su questa relazione stanno accrescendo pochissimo, però la loro massa è già centinaia di milioni o miliardi di masse solari. Quindi sono buchi neri che oggi non stanno accrescendo, ma chiaramente nel passato devono aver avuto episodi di AGN, cioè devono aver aumentato la massa con accrescimento di gas. Quindi significa che la correlazione che osserviamo oggi molto probabilmente non ci sta dando un'informazione recente, ma è una specie di fossile di una qualche tipo di coevoluzione, cioè di comunicazione tra la crescita del buco nero e della galassia che deve essere avvenuta molto tempo fa, di cui vediamo soltanto un imprinting oggi perché deve essersi fossilizzata ad un certo punto e quindi congelata come la vediamo. Però le masse dei buchi neri e delle galassie di questa relazione sono molto alte, quindi deve essere successo qualcosa prima. Cosa? Ci sono state tantissime le teorie sviluppate per cercare di spiegare questa correlazione inaspettata tra massa e il buco nero e della galassia, si è giunti a una delle teorie più accreditate che fa riferimento al combustibile comune che alimenta sia il buco nero che la galassia, e vale a dire il gas freddo, gas o polvere interstellare freddo, perché il gas freddo che si trova nella galassia ovviamente va a costituire, come dicevo, gli asili nido dove si formano le nuove stelle e quindi formandosi nuove stelle aumenta anche la massa stellare di una galassia. Grazie al gas freddo il buco nero può alimentarsi e quindi anche la massa del buco nero può aumentare, quindi laddove c'è gas c'è dita, tra virgolette. Quindi le teorie che hanno basato sul gas il ruolo di ingrediente fondamentale per spiegare questa correlazione sono giunti alla conclusione che molto probabilmente il buco nero ha un ruolo fondamentale nell'evoluzione della galassia perché ne funge da catalizzatore. Cosa significa? Una galassia, prendiamo ad esempio una galassia con un buco nero supermassiccio al centro, ha molto gas questa galassia e parte di questo gas sta formando delle stelle. Chiaramente se la galassia è molto massiccia, pian piano il gas tende a segregare verso il centro di massa della galassia, cioè verso il suo centro, parte di questo gas potrebbe anche finire vicino al buco nero. Cosa succede quando del gas va vicino al buco nero? viene progressivamente mangiato con l'accrescimento e in maniera concomitante il buco nero può anche emettere del feedback sulla galassia, quindi energia, materia, venti, getti. Così facendo il buco nero soffia all'esterno lo stesso gas che stava mangiando, quindi in qualche modo si va ad autosabotare, però questo feedback della GN ha anche il ruolo, come dicevo prima, di riscaldare il gas circostante all'interno della galassia e quindi in questo modo il buco nero va a frenare una crescita spropositata della galassia in troppo poco tempo. Però questo gas riscaldato al buco nero, se non abbandona la galassia, prima o poi tende a ritornare nella situazione di equilibrio stabile, quindi a raffreddarsi progressivamente e quindi il ciclo ricomincia. Quindi la ripetizione ciclica di questi meccanismi di feedback e di feeding, cioè di alimentazione del buco nero in questo riciclo continuo, insomma, di gas che va all'esterno e più all'interno, potrebbe a lungo andare generare questo equilibrio che porta a una crescita sincronizzata della massa del buco nero e della massa in stelle della galassia. Quindi in questo scenario qualitativo la galassia dice al buco nero quanto gas può mangiare. Perché? Perché è la massa della galassia che determina la sua capacità di attrarre gas verso l'interno e di canalizzarlo verso il buco nero. Le galassie più massicce sono più efficienti in questo. Il buco nero, d'altra parte, fa da termoregolatore della galassia perché se la galassia ha troppo gas, il buco nero avvierà prima una fase di AGN e quindi, diciamo, inibirà la formazione di stelle della galassia. Quindi c'è sempre un limite dettato dal buco nero nella crescita in stelle della galassia. Senza i buchi neri le galassie formereranno in maniera sregolatissima nuove stelle senza nessuna sosta, nessun limite e sarebbero molto più massicce di quelle che invece vediamo oggi, che non superano una certa massa, infatti. E guarda caso le galassie più massicce sono anche quelle in cui vediamo più spesso attività di AGN, proprio perché c'è più gas coinvolto nello scenario. Ora, in questo scenario, da questo scenario mi sposto a una domanda che mi porta anche alla chiusura dell'intervento di stasera. Cioè, noi oggi vediamo una correlazione abbastanza stretta tra massa del buco nero e massa della galassia, ma questa correlazione è stata sempre così anche nelle prime fasi di crescita? Noi oggi vediamo soltanto le gas più massicce e i buchi neri più massicci su questa correlazione. Però anche queste galassie, questi buchi neri devono essere cresciuti nel tempo, quindi molto tempo fa erano sicuramente più piccole sia le galassie sia i loro buchi neri. Quantificando un po' quello di cui sto parlando, oggi le galassie che vediamo ospitano più facilmente i buchi neri, hanno masse di 100 miliardi di masse solari, con buchi neri di centinaia di milioni o centinaia di miliardi di masse solari. Ma invece le galassie meno massicce e i buchi neri più massicci seguono la stessa correlazione oppure no? Questo è un argomento di studio che introduco, diciamo, in maniera inedita questa sera e ci sono vari scenari possibili che ora cercherò di delineare. Il primo è uno scenario semplicissimo di coevoluzione, cioè in cui c'è sempre stato un rapporto pressoché costante 1 a 500 tra massa del buco nero e della galassia, a prescindere dall'epoca e dalla loro massa. È sempre stato così. L'altro scenario possibile è che invece ci sia stata una crescita esponenziale della GN, quindi del buco nero, all'inizio, che poi si è rallentata invece a favore della crescita successiva della galassia, oppure che ci sia stata una prima fase in cui la galassia ad essere cresciuta più in fretta, seguita invece da una crescita più sostenuta da parte del buco nero. Quindi, quali di questi scenari? Tutti e tre portano comunque, alla fine convergono verso una correlazione che vediamo oggi, perché è il vincolo di partenza, è ciò che vediamo, però non sappiamo come ci siamo arrivati a questa linea di traguardo. Le osservazioni, diciamo, di grandi campioni di galassie e dei loro buchineri a centrali, fino a dieci anni fa, si limitavano a galassie e buchineri troppo massicci per poter discriminare tra questi scenari. Però, osservazioni più profonde e recenti di appena cinque o sei anni fa hanno cominciato a far luce su questi scenari. E, con sorpresa, devo dire, hanno cominciato a supportare non uno scenario coevolutivo, ma uno scenario in cui c'è una prima fase di crescita sostenuta della galassia e una seconda fase invece in cui è il buco nero a crescere più in fretta. Cosa significa questo? Ecco, tra l'altro la Via Lattea, che vedete qua, guarda caso, giace sull'estrapolazione di questo trend empirico, osservativo, delineato dai dati. Quindi, forse non fa eccezione alla Via Lattea in questo scenario. E poi, le AGN che riveliamo ad altissimo reshift, quindi i buchineri più distanti, invece si trovano dall'altra parte del grafico, ma non sorprendentemente, perché questi sono gli AGN più brillanti, quindi anche i buchineri più massicci che conosciamo a quell'epoca dell'universo e qui non possono essere la popolazione media di quell'epoca. Sono, con tutta probabilità, delle eccezioni, case eccezionali. Ma se uno traccia soltanto l'evoluzione media della massa dei buchineri rispetto a quella delle galassie, trova invece un trend dettato da questi punti gialli. Quindi questo trend, diciamo, supporta empiricamente una specie di sorpasso cosmico, in cui il buco nero a un certo punto all'inizio cresceva poco, ma poi ha dato un'accelerata improvvisa. Cosa significa? Analizziamo questo grafico nelle due fasi. Partiamo dalla prima fase, in cui la galassia è relativamente piccola, una galassia anana, possiamo dire. Ora, in questa bilancia cosmica che misura il tasso relativo di crescita è sicuramente la galassia a dominare. Come vedete, il buco nero all'inizio non cresce, è la galassia che aumenta la sua massa. Perché? La galassia in questa fase è ancora una galassia anana, quindi di masse, attorno a un miliardo di masse solari o poco più. In queste galassie la massa è talmente piccola che non riesce a trattenere il gas quando viene espulso. Quando la galassia all'inizio comincia a formare stelle, convertendo il gas in stelle, le stelle più massicce esplodono come supernove, come sapete. Il gas espulso dalle supernove in queste galassie così piccole non riesce ad essere trattenuto. Lui, poverino, viene espulso definitivamente via dalla galassia al primo tentativo. Dato che le supernove esplodono soprattutto al centro, perché ci sono più quantità di gas all'inizio nelle parti centrali della galassia, di fatto a un certo punto queste supernove privano del gas il buco nero centrale, perché lo soffiano via e questo gas viene permanentemente perso dalla galassia. Quindi il buco nero rimane a digiuno nelle prime fasi, invece nelle periferie della galassia il gas rimanente continua a fare un po' di stelle e quindi la massa stellare della galassia aumenta, invece il buco nero no. Man mano che la galassia poi cresce in massa, invece, raggiunge una massa limite al di sopra della quale la sua capacità di trattenere adesso il gas espulso dalle supernove è molto più alta e quindi in questo frangente comincia a prendere piede lo scenario coevolutivo che vi ho menzionato prima. Cioè quando una galassia diventa abbastanza massiccia, a un certo punto riesce a trattenere il gas espulso dalle supernove, quindi il gas viene riciclato, ritorna al buco nero centrale che lo mangia, esercita feedback e continua a riciclare e diciamo a riossigenare il gas in più e più episodi nel corso del tempo dando vita quindi a una crescita congiunta sia della galassia che del buco nero, come vediamo in questa seconda fase. La massa soglia di cui stiamo parlando è all'incirca di più o meno 10 miliardi di masse solari della galassia e quindi queste due fasi determinano quella che è la correlazione che vediamo oggi. Questi erano scenari empirici dettati dalle osservazioni ma ci sono anche accordi forti con le predizioni di modelli di simulazioni cosmologiche. In questi tre grafici, senza entrare nei dettagli, vedete sull'asse verticale la massa del buco nero, su quella orizzontale la massa della galassia e i dati sono la linea tratteggiata rossa che vedete ha un piega a un certo punto e si irripidisce per galassie più massicce e i modelli invece sono le linee colorate o i punti colorati. Qualitativamente, qui senza entrare nei dettagli, potete vedere che anche negli ultimi modelli si delinea una crescita a due fasi piuttosto che una costante coevoluzione. Questa è una delle scoperte osservative ma anche confermate dai modelli più recenti che conosciamo e che volevo anche menzionare stasera perché non l'ho fatto in nessun'altra conferenza, diciamo, che ho tenuto di recente. Quindi per concludere, senza le AGN sicuramente le galassie sarebbero molto diverse da come le conosciamo oggi. Le galassie avrebbero una crescita spropositata della loro massa stellare e saurirebbero molto più rapidamente il gas al loro interno, invece la AGN aiuta a regolare l'attività della galassia e quindi che poi viene a essere, diciamo, stampato, fossilizzato in questa correlazione che vediamo oggi. Vi ho detto alcune cose che pensiamo di aver scoperto ma ci sono anche tantissime questioni ancora aperte che volevo citare per concludere. Come regolare l'attività della galassia però paradossalmente non sappiamo ancora quali sono i parametri che determinano la presenza o l'assenza di un getto radio nelle AGN. Solo il 10% delle AGN ha un getto radio visibile e nel 90% rimanente non sappiamo perché non li vediamo. Qual è il ruolo del feedback di AGN nelle galassie inane? Vi ho detto che il buco nero cresce più efficacemente nelle galassie più massicce, dove ha più gas, ma alcuni studi recenti cercano di, stanno facendo luce anche su un possibile ruolo del feedback in galassie più piccole, di cui ancora sappiamo molto poco perché sono molto più deboli, quindi più difficili da osservare. La domanda delle domande per un agennista come me è dove sono tutti gli AGN? Cioè se pensiamo che ogni galassia abbia un buco nero supermassiccio, come è diventato supermassiccio questo buco nero? Crescendo materia magari, quindi ogni galassia deve aver sperimentato in qualche episodio della sua vita una fase di AGN e quindi dobbiamo cercare di trovarne il più possibile per caratterizzare tutte le fasi evolutive, dalle prime fasi di crescita fino al giorno d'oggi e anche agli albori dell'universo che conosciamo ancora relativamente poco. E in questo aiuterà sicuramente il ricambio generazionale di telescopi che avremo in questo decennio e nel prossimo, cioè in tutte le lunghezze d'onda avremo un successore dei telescopi odierni. In radio avremo SCA, lo Square Kilometer Array, che è in fase di costruzione in Australia e in Sudafrica, che è un sistema di antenne, di radiotelescopi, il più potente, il più grande è mai costruito dall'uomo, che dovrebbe entrare in funzione tra pochi anni. Quest'anno, a ottobre, verrà lanciato, speriamo, dopo vari rinvii, il James Webb Space Telescope, un telescopio infrarosso. Poi in X avremo invece Atena, un telescopio che verrà lanciato fra una decina d'anni e in ottico avremo questo mastodontico telescopio con uno specchio, pensate, di 39 metri di diametro, che si chiama European Extremely Large Telescope, cioè telescopio europeo estremamente grande, con molta fantasia, che è in costruzione su grande cilene e vedrà la prima luce fra due o tre anni. E quindi speriamo, con questa nuova generazione di strumenti all'avanguardia, di rispondere a queste domande e sicuramente ne apriremo anche di nuove. E quindi speriamo di poterci anche riaggiornare, magari in presenza, in futuro, rispondendo ad alcuni di questi questi siti. E quindi con questo, spero di non aver fatto troppo tardi, vi ringrazio molto per la vostra attenzione e accetto tutte le vostre domande. Grazie, grazie Ivan. Sì, stanno arrivando delle domande. Una dice se questi buchini di supermassici si sono formati e si formano solo al centro delle calassie o anche in zone periferiche. Questa è un'ottima domanda. Si pensava, e io sono stato abbastanza poco dettagliato nel dire che sono al centro delle galassie, ci sono molti studi che stanno, soprattutto dei modelli, che stanno individuando buchi neri vagabondi, cioè che non sono segregati al centro della galassia, ma che devono ancora arrivare al centro della galassia. Pensiamo che il centro della galassia sia un po' un limite asintotico, una specie di punto idealizzato dove il buco nero deve stare, ma in realtà, dato che molte delle galassie che vediamo oggi, soprattutto le più luminose, tendono a fondersi tra loro, se ognuna di queste galassie ha al suo centro un buco nero, ovviamente quando la galassia è fusa il buco nero non sarà esattamente al centro all'inizio. Anche i buchi neri delle due galassie fuse dovranno, diciamo, agganciarsi gravitazionalmente e, consentitemi un termine coalescere, se esiste, cioè fondersi progressivamente fino a formare un unico buco nero. Ma, se riuscissimo a osservare questi eventi, chiaramente i buchi neri sarebbero spostati rispetto al centro della galassia fusa e quindi ci aspettiamo che, soprattutto in galassie in corso di fusione, interazione tra loro, i buchi neri non debbano essere al centro. Soprattutto nelle galassie meno massicce, dove ovviamente la gravità che attrarrebbe il buco nero verso il centro è più debole. Ok, grazie. Qua dice Antonio, se hai capito bene, il ruolo fondamentale è di attribuire all'evoluzione di stelle supermassicce che vanno a creare supernove. Nelle galassie più antiche, quindi ricche di stelle di questo tipo, c'era molto più gas a disposizione che ha accelerato l'accrescimento della galassia? Sì, esatto. Questo è un po' il modello che pensiamo sia stato valido. Io l'ho menzionato per le galassie poco massicce, ma significa anche le stesse galassie massicce oggi che erano molto più piccole ieri. Il modello vale anche a diverse epoche cosmiche. Diciamo che è un modello che ragiona in termini di massa, per cui le galassie che oggi sono massicce sicuramente quando erano giovani e più piccole avranno sperimentato una prima fase di crescita forse nata delle stelle e non del buco nero e poi questo cambio di rotta. Sì, questo almeno fino a 12 miliardi di anni indietro, dei 13,8, pensiamo che le cose siano andate così. Oltre non lo sappiamo ancora. Ok, ancora. Quindi, visto quel grafico che avevi mostrato, la Via Lattea si pone appena dopo l'inizio della seconda fase. Chiede Stefano, le bolle di Fermi e le altre tracce di recente attività potrebbero essere la prova di crescita nell'ambito di questa nuova fase? Il buco nero della Via Lattea, in effetti, è poco massiccio rispetto alla sua massa stellare. In realtà c'è una considerazione qui da fare che non è tutta la massa stellare della Glassa che va considerata, perché la massa stellare della Via Lattea è ben oltre 10 alla 11, 2 per 10 alla 11, ma è solo la massa del balgio, cioè del rigonfiamento centrale che va considerata e che correla con la massa del buco nero. Però le bolle di Fermi e anche le bolle viste da Irosita, Imix, insomma, che confermano le bolle di Fermi sono sicuramente un'attività passata del nostro buco nero centrale, però i tassi di accrescimento sono ancora relativamente bassi, cioè il nostro buco nero non sembra ancora aver ingranato la marcia fondamentale, però sono chiaramente processi che impiegano milioni e miliardi di anni per essere visibili macroscopicamente. Qui lo possiamo vedere solo perché facciamo una media di campioni di oggetti, tanti oggetti a varie masse, sul singolo oggetto è difficile star lì a monitorare l'evoluzione del buco nero. Però sicuramente da vedere, sicuramente le bolle di Fermi sono una scoperta, anche quelle di Irosita e Imix, interessantissima, che magari può far luce sull'attività del buco nero. Comunque questi trend che sto mostrando qui sono trend medi, quindi non è detto che la Via Lattea segua per forza lo stesso cammino. Infatti ci sono altre due domande poi sul rapporto di massa buco nero-galassia, ma prima un'altra che è che i buchi neri possono generare un campo magnetico galattico e se sì, quali potrebbero essere gli effetti di questo campo magnetico galattico? Il campo magnetico galattico non saprei come interpretarlo, però per avere un campo magnetico devo avere una superficie. Le stelle di neutroni hanno un campo magnetico molto forte perché hanno particelle cariche che si propagano dal pollo negativo a positivo, però c'è una superficie, invece il buco nero non ce l'ha. Quindi ammetto la mia ignoranza, ma tenderei a dire che è un po' speculativo parlare di campo magnetico di un buco nero, stellare o supermassiccio. C'è una domanda che ho visto e apparsa sulla chat che volevo fare anch'io perché mi incuriosiva. La domanda era se andando avanti nel tempo questo rapporto tra massa della galassia e massa del buco nero tenderà a stabilizzarsi oppure no. Quindi ho approfittato della mia posizione dominante, per così dire. Sì, dipende dalle galassie di cui parliamo, perché se la galassia, diciamo così, di cui parliamo è una galassia molto massiccia, lo sappiamo già perché oggi vediamo che già c'è più o meno su questa correlazione, 1 a 500, in realtà ho approssimato. Non è proprio 1 a 500, non è proprio fissa, è 1 a 200 per le più massicce, 1 su 1000 per le meno massicce in questo intervallo, però in media è 1 su 500. però si dipende essenzialmente dalla massa della galassia, quindi partendo, volendo seguire la vita di una galassia nel tempo, dipende da quanto questa galassia riesce a convertire gas in stelle. Quindi se avrà molto gas a disposizione, quindi ha tutti i presupposti per diventare una galassia massiccia in stelle, perché ha tutto il combustibile che le serve, anche il buco nero crescerà di conseguenza e quindi è difficile evitare alla fine una coevoluzione di questo tipo. Se la galassia invece per qualche motivo rimane priva di gas, perché ci sono tanti fenomeni che non ho menzionato, che possono strappare via il gas, ad esempio il round pressure stripping, insomma negli ammassi di galassie, quella galassia è destinata a non crescere, quindi ad una fine prematura. Dipende molto, e questo l'ho menzionato solo all'inizio, ma l'unico fondamentale dell'architetto, soprattutto in questi scenari, è l'allone di materia oscura, perché è lui che decide quanto gas entra nella galassia e se questo gas può uscire oppure no. Alloni più grandi attirano più gas e quindi innescano tutti questi processi di crescita del buco nero e di galassia molto più velocemente, molto più efficacemente che in alloni di materia oscura più piccoli. E' quello forse il parametro fondamentale che regola un po' tutto dal dietro le quinte. Ok, c'è una domanda che chiede, ma proprio il feedback stesso, non potrebbe innescare invece fenomeni di creazione stellare come fanno le onde d'urto delle supernove, perturbando il mezzo interstellare? Assolutamente sì, infatti dicevo che è un ambito molto dibattuto e sono contento di questa domanda perché personalmente io non ritengo che il feedback dell'AGN spenga la formazione stellare delle galassie definitivamente, perché ci sono anche casi in cui nello stesso oggetto si vede che, non ho un'immagine ma ve lo spiego, Lungo la propagazione del getto c'è un deficit di formazione stellare, proprio perché il gas lungo il getto è più caldo, è turbolento e non riesce a formare stelle. Ma a cavallo del getto, cioè sugli argini di questo getto, l'onda d'urto, proprio come diceva la domanda, può localmente comprimere il gas e quindi generare nuove stelle. Questo è stato visto e quindi il feedback dell'AGN pensiamo che abbia un doppio ruolo di inibitore, ma anche di artefice di nuova formazione stellare. Ed è questo anche che va un po' a complicare l'impatto globale dell'AGN, ma che va anche a renderlo più importante proprio nello scenario di attività di formazione stellare della galassia. Ok, le cose non sono mai semplici come potremmo immaginare alla fine. Scusate, mi inserisco un attimo per fare una domanda che mi è arrivata da un altro canale. Invece se puoi dire due parole sulle ipotesi, anche se sono solo ipotesi speculative, sui buchi bianchi. Ho visto che l'hanno chiesto anche qui sulla chat di Zoom. Vorrei saper dire di più, però diciamo il negativo del buco nero, cioè la luce che viene assorbita deve uscire da qualche parte, quindi se c'è un buco nero ci deve essere un buco bianco. Però prima di capire se possono esserci dei tunnel spazio temporale, insomma, credo che ne passerà di tempo. Non possiamo escluderlo, non possiamo confermarlo, quindi mi limito a dire che è una speculazione per adesso, nel senso che siamo agnostici e non sappiamo quantificarlo o provarlo scientificamente. I film ci dicono molto di più di quello che ci dicono gli studi in questo ambito, però magari è utile per avere nuovi stimoli, nuove idee per il futuro. E ancora una cosa, dice se le nubi di Magellano hanno dei buchi neri supermasticci al loro centro. Questa è un'ottima domanda. Le nubi di Magellano, grande e piccola, sono due galassie nane. Allora, sicuramente non sono supermasticci, se ci sono. Se ci sono, considerando la massa ridotta delle nubi di Magellano, dovrebbero essere dei candidati buchi neri intermedi. Quindi direi che non sono supermasticci, ma forse sono degli ambienti interessanti dove poter investigare la presenza dei buchi neri seme, cioè dei buchi neri che devono ancora accrescere perché queste nubi non hanno sicuramente molto gas a disposizione e la loro massa è relativamente ridotta, quindi è difficile che il buco nero, se è presente al loro interno, riesca a crescere in maniera importante. Però non so se sia stata confermata la presenza di buchi neri di massa intermedia o almeno ipotizzata nelle nubi di Magellano. Ci dovrei guardare. Ok, grazie. Io non vedo altre domande. A questo punto direi che possiamo ringraziarti e chiudere la diretta, darvi l'appuntamento al prossimo incontro che sarà tra esattamente due venerdì. Ci troviamo sempre sui soliti canali, Zoom e YouTube. Noi resteremo ancora qui in linea su Zoom qualche minuto. Chiudiamo la diretta su YouTube e alla prossima. Ciao.